I sindacati sono una vera e propria piaga dell'Italia, i sindacati ancora peggio i suoi rappresentanti sono quei clan che hanno affossato aziende come la Fiat imponendo una protezione ad oltranza dei cosiddetti lavoratori. Faccio un esempio, dice, io sono napoletano e di dominio pubblico che nello stabilimento di Pomigliano per anni ha dominato l'assenteismo. Del resto, io mi sono sempre chiesto quando famose trasmissioni televisive smascherano i cosiddetti lavoratori che timbrano e vanno via dal posto di lavoro defraudando la società e l'indignazione dei sindacati verso quelle persone. Dov'è? Basta leggere le dichiarazioni della Camusso di oggi per capire che tipo di sindacati abbiamo in Italia. La Camusso è il dirigente massimo di una sigla sindacale che nella sua funzione politica ha una sola prerogativa, essere contraria a prescindere, diciamo in parte il discorso dei no. Tutte le iniziative che vengono prese da un qualsivoglia governo, la CGL è contraria, ma a che serve la CGL? Scappare dall'Italia, anche Alfredo dice, è l'unica soluzione. Io ho fatto il consigliere comunale per anni e purtroppo nel pubblico impiego troppo spesso i sindacati difendono fannulloni, assenteisti, solo in base alle tessere sindacali che permettono loro di fare straordinari o di fare l'impiego più conveniente. Alla faccia invece dei dipendenti pubblici che fanno il doppio del lavoro anche per il compagno di scrivania che non fa una mazza. Quindi che i sindacati abbiano la loro grande quota di responsabilità nell'ingessamento della situazione, condivido l'analisi del telespettatore di Napoli, non l'invito a scappare. Io non voglio scappare, io voglio stare qua. Io ho un bimbo di dieci anni e una bimba di un anno e due mesi e non voglio che siano costretti ad andare altrove per cercare lavoro e per avere un futuro. Se lo vorranno fare, liberi di farlo. Però io combatto da politico e da papà perché il lavoro riparta qua. Però la riforma Fornero qualcuno l'ha votata, sia sul lavoro che sulle pensioni. Chi ha votato la riforma Fornero sul lavoro e sulle pensioni? In politica e nella vita riconoscere l'errore è segno di intelligenza. Io spesso sbaglio, lo riconosco e cerco di rimediare l'errore. Si può cancellare la riforma Fornero sul lavoro e sulle pensioni che a detta di tutti, che a detta di tutti ha fatto dei disastri? Oggi il Presidente del Consiglio fa la conferenza stampa. Dedicherà un secondo di questa conferenza stampa all'ipotesi di cancellare queste due schifezze della riforma Fornero sul lavoro e sulle pensioni? Oppure parlerà degli 80 euro? Altrimenti l'altra signora che vi ha mandato la mail ha ragione di arrabbiarsi. Detto questo, noi come Regione Lombardia stiamo cercando di mettere le toppe su una ventina di crisi aziendali per metterci dei quattrini. Noi però non possono essere gli enti locali e territoriali a rimediare agli errori centrali. E ripeto, se non si ridiscute l'Europa, io adesso vi devo lasciare perché è in corso una discussione proprio qua di fianco a me sull'efficienza energetica. Questo per dirvi quanto è lontano il palazzo. Stanno discutendo giustamente anche di risparmio energetico, di produzione non inquinante quando le aziende chiudono, quando i negozi chiudono, quando gli artigiani chiudono. Quindi fra un po' avremo un risparmio energetico perché nessuno più è aperto e consuma energia. Per forza di cose, dice lei. Grazie, grazie Salvini. Grazie anche di essere stato con noi.